Cento posti letto per un totale di 43 camere sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Porto Cesario in Contrada a Chiusurelle. Secondo quanto accertato dalle indagini coordinate dal sostituto procuratore Emilio Arnesano, l'hotel è stato costruito in una zona destinata ad un centro commerciale. Per questo è finito nel registro degli indagati con l'accusa di abusivismo edilizio Salvatore Manni, 62enne leccese, amministratore della società Giturman, gruppo immobiliare turistico Manni, che nel 2007 avrebbe ottenuto le autorizzazioni amministrative per realizzare un immobile che prevedeva al piano semi interrato depositi, al piano terra un centro commerciale e al primo piano solo 27 mini appartamenti. Le verifiche dei finanzieri che hanno confrontato il progetto con ciò che è stato effettivamente realizzato hanno permesso di accertare che invece erano stati realizzati 25 appartamenti al piano interrato e 18 al piano terra. Il provvedimento eseguito nelle scorse ore porta alla firma del GIP Carlo Cazzella.